La scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Allee! Ime Zepali, vai! Voi, io l'ho pulito, mi dico... Vieni! Vieni, puliti! Dietro! Ok, così! Arturia, dai! Vieni, sei lì! Vieni Giuseppe, vai Giuseppe! Vieni tutti, veloce! Veloce! Con le mani! Con le mani, Giovanni! Vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Sali, sali ora! Vai, Seba! Bravo, Cristian! Bravo, Seba! Bravi, così! Sali! Siri in fondo, guarda lì! Andréa, andiamo, andiamo! sali sali oddio palla fa cazzo di palla ok pressione sbaglia dai 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 forza concentrati Thomas chiudo però non sul calcio non so può passi indietro ok passi non centrale via non centrale vai aiuta non tiratelo su non tiratelo su vai spingi invece devi parlare spingi non devi parlare vai sali vai vai chi gioca gioca sali 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 dai dai sali sali fil sali val pi pal